Milioni e milioni di terabyte su questi hard disk buttati lì a prendere polvere nell'angolino della vostra stanza Oggi andiamo a vedere come minare con gli hard disk, quindi come fare del mining con i nostri hard disk E andare a guadagnare una rendita passiva da questo spazio completamente inutilizzato Bene, mega spoilerone alle spalle della piattaforma di cui parliamo oggi che è SC Prime La dirò in italiano, lasciatemi stare, non sono anglofano Io sono Polve, se non mi conoscete su questo canale parlo di qualsiasi cosa riguardante il mondo della blockchain e delle criptovalute Quindi dal mining come oggi, al play to earn, ai metaversi, a tutte le piattaforme che riguardano la finanza decentralizzata Quindi se vi interessano tutti questi tipi di argomenti, mi raccomando, prendete in considerazione di iscrivervi al canale Di mettere un mi piacione a questo video se vi è piaciuto e ovviamente di interagire con me e nei miei social Quindi Telegram e qua sotto nei commenti Tutto questo mi può solo aiutare a crescere, quindi vi ringrazio in anticipo Detto questo, andiamo a vedere come si fa a minare con i nostri hard disk Allora, prima cosa, diciamo che cos'è SC Prime SC Prime è una piattaforma, una blockchain a tutti gli effetti Che si propone di andare a creare del cloud storage decentralizzato Essenzialmente stiamo parlando di un Google Drive, di un Dropbox, di un OneDrive di Microsoft Quindi quei servizi che offrono dello storage online Ma in questo caso la particolarità è che uno sicuramente si pagherà molto molto di meno Perché c'è tutta una questione di costi che ovviamente la piattaforma non ha E secondo ovviamente stiamo parlando di spazio completamente decentralizzato Sfruttando quella che è la tecnologia della blockchain Non è una novità, ci sono già progetti come Filecoin, come Kia Che permettono di fare qualcosa di molto simile Ma questo in questo momento ha una serie di incentivi abbastanza enorme Essendo un progetto nato praticamente da un po' ma avviato in questi giorni Quindi che cosa ci serve per iniziare? Allora, ci sono due strade che si possono percorrere Una che vi sconsiglio totalmente Che è quella di andare a comprare questo XA Miner Che è praticamente un micro PC inventato direttamente da loro Costruito direttamente da loro Che non è altro che un case di plasticozzo con il loro logo Che monta 4 dischi da 4 Tera Oppure c'è anche la versione con più Tera di spazio 1500 dollari Mi pare una cosa da escludere a priori Detto questo, la scelta migliore che potete fare È utilizzare un vostro PC Vi sconsiglio ovviamente di utilizzare il vostro PC principale Perché le due prerogative principali Perché voi otteniate la massima rendita Da questo tipo di mining È un po' come gli altri tipi di mining È che il vostro PC, la vostra macchina Si è accesa 24-7 Quindi tutto il giorno, tutti i giorni Seconda cosa ovviamente è avere una connessione stabile Va da sé che anche la connessione Come per il PC deve essere sempre in uptime Non potete avere diciamo delle disconnessioni Se avete problemi di connessione Questo tipo di mining non fa per voi Detto questo arriviamo alla ciccia Come e quanto si guadagna Andranno a fare questo tipo di mining Allora, uno Andiamo a vedere che la moneta di SC Prime E l'SCP In questo momento vale circa un dollaro Sapete che le monete Soprattutto quando magari si va a switchare Da un mining all'altro Magari prendono piede determinate monete Sapete che questa moneta potrebbe andare a 50 centesimi Come potrebbe anche valere poi 4, 5, 6 dollari Ok? Quindi tenete in considerazione anche questa cosa Per farvi rendere conto E spiegarvi un po' tutto il funzionamento Andiamo su questo sito Che vi lascio ovviamente in descrizione Che è il XA Miner Stats Un sito che ci permette di fare i calcoli Prima cosa da dire I guadagni sono calcolati Sullo storage utilizzato In questo momento Sulla piattaforma Stiamo parlando di 43 petabyte Aviable Quindi 43 petabyte Messi a disposizione della chain Quindi prenotabili Affittabili E solo 703 terabyte utilizzati Quindi in questo momento La piattaforma che è poco conosciuta Che ovviamente adesso andremo a vedere Per questo motivo offre anche un botto di incentivi Non sarà semplice andare Ad aggiudicarsi Parte diciamo delle rendite Perché non tutti andranno appunto Ad affittare il vostro spazio Ma adesso vi darò anche qualche consiglio in merito Quindi Questi guadagni Vanno calcolati sullo spazio utilizzato Intanto qua sotto È il prezzo Che noi andiamo a indicare Che possiamo appunto scegliere Di quanto deve costare A chi affitterà il nostro spazio Per ogni terabyte al mese Quindi 3 scp Per ogni terabyte affittato Ogni mese Se noi mettiamo di più Sappiate che Sì potremmo andare a guadagnare di più Potenzialmente Ma è anche vero Che noi dobbiamo andare A combattere A competere Con 50 petabyte Di spazio disponibile Quindi va da sé Che se abbassiamo un pochettino Il prezzo E ci stiamo comunque Nei costi mensili Potremmo andare in questo modo A prendere Del pubblico Che verrà a comprare da noi Perché abbiamo un prezzo Per terabyte mese Più basso rispetto agli altri Nel caso Ci vengano appunto Affittati 500 giga Di spazio O anche possiamo fare Un tera Che è qualcosa di Fattibile E andiamo a mettere In condivisione Questo spazio Per tre mesi Circa Lì i nostri guadagni Mensili Sono di 98 scp Al mese Che in questo caso Adesso Al prezzo attuale Sarebbero circa 100 dollari Al mese Nel caso SCP ovviamente Facesse un pump Derivasse a un per due Quindi a due dollari In questo caso Sarebbero circa 200 dollari Prima di arrivare Qua sotto Al collaterale Che è un'altra cosa Molto importante Andiamo a capire Da dove derivano Questi 98 SCP Mese Perché noi abbiamo detto Che Andremo a far pagare In nostro spazio 3 scp Al terabyte In questo caso La persona che ha Affittato il nostro spazio Ha preso un terabyte Perché noi riceveremmo 98 scp Perché in realtà In questo momento La piattaforma Essendo early E quindi andando Volendo incentivare Le persone A condividere Il proprio spazio Ci da Dei grossi Incentivi Quindi invece di andare A guadagnare 3 scp Al mese Andremo a guadagnare 3 scp Di rendita Di affitto Più 95 scp Che ci da Direttamente La piattaforma Sotto forma Di incentivi Per ricevere Questi incentivi Mi raccomando È importantissimo Quello di cui Parlavamo prima La nostra Nostro spazio Condiviso Deve essere In uptime Sopra Il 95% Quindi Il nostro computer Deve essere acceso Per il 95% Del tempo Preso in 30 giorni In un mese Quindi Computer acceso E connessione stabile Per 30 giorni Al 95% Se si va Sotto Il 95% Gli incentivi Vengono dimezzati Del 50% Quindi ci vengono dati Il 50% Degli incentivi Se siamo Sotto L'85% Ci vengono dati Zero incentivi E forse Ci vengono addirittura Tolti I tre SCP Di rent Dico Forse Ma in realtà È certo Perché se noi andiamo Ad avere un uptime Che non combacia Con quelle che sono Le linee guida Della piattaforma Ci vengono addirittura Barnati I nostri SCP Che dovremmo mettere In collaterale Allora Andiamo quindi A integrare Questo discorso Del collaterale Che è una cosa Super intelligente E ovvia La piattaforma Ci permette Di dare lo spazio È normale Che dall'altra parte Chi affitterà Lo spazio Ha bisogno Di avere i propri dati Consultabili Tutti i giorni A qualsiasi ora Sempre Quindi Viene messo Un collaterale In questo caso Sempre basato Sullo spazio utilizzato Che nel caso specifico È di 18 SCP Quindi noi Per andare A condividere Il nostro spazio Dovremmo avere In questo caso Almeno 18 SCP Messi a collaterale Questo perché Se noi un giorno Ci svegliamo E non abbiamo più voglia Di condividere Il nostro spazio E boom Chiudiamo il nostro serverino Il nostro computerino Le persone Che hanno comprato Il nostro spazio Ovviamente Riceveranno dei danni Oltre alla piattaforma stessa Che riceverà dei danni Perché dovrà andare A ricostruire Quello che è il file Del cliente Eccetera 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 E quindi I nostri SCP Verranno Barnati Nel caso specifico Perderemo Non solo Tutti Gli incentivi E le rendite Ma andremo a perdere I nostri 18 SCP Che avremo dovuto Comprare In anticipo Bene Vi ho parlato Degli incentivi Che comunque È tutto spiegato Qua sulla documentazione La parte del rent La parte Degli incentivi Una cosa Che mi sono dimenticato Di dirvi Sugli incentivi E Prima iniziate Meglio è Perché gli incentivi Vengono Diciamo Erosi Pian piano 10 SCP Ogni mese Quindi adesso Riceveremo 115 SCP Per ogni Terabyte Al mese Di incentivo E più Più si andrà avanti Più Verranno Scalati Questi incentivi Di 10 SCP Ogni mese Fino ad arrivare Appunto A un incentivo Pari a 0 Andiamo a vedere Questo piccolo caso studio Che potrebbe essere Il vostro caso Vedete che questo personaggio Ha Un uptime Del 98% È sempre Praticamente online Ha un Incentive Rate Quindi un rateo Di incentivo Full Quindi gli vengono Versati tutti gli incentivi E ha Una capacità totale Di 3.60 Terabyte Di cui Occupati 275 Giga E vedete Che in questo caso Lui L'in mese scorso Probabilmente aveva Qualche giga in più Occupato Ha guadagnato 17 SCP E in questo mese Sta guadagnando Ha un guadagno Potenziale Di 13 SCP Che in questo momento Sono circa 13 14 dollari Ok Di guadagno Bene Ultime due cosucce Per andare a comprare Il collaterale Gli exchange Che listano SCP Sono Trade Ogre E South Exchange Che non conoscevo Trade Ogre Lo conoscevo Che ha un sacco di Di coin Un po' esotiche Ma soprattutto di coin Legate appunto Al mining E questo South Exchange Quindi Su queste due Passatevi i vostri Vostri fondi E potete andare a comprare I vostri SCP Da mettere A collaterale Bene Oggi non andrò a spiegarvi Nello specifico Tutti i passaggi Per andare a installare Appunto La Windows La Windows UI Perché veramente È una perdita di tempo C'è una guida Precisa Passo passo Che ve lo fa vedere Ovviamente Basta che andate Qua sulla pagina Windows Setup Andate a scaricarvi SC Prime Avrete Appunto Un zip Che io adesso ho qui Nei miei download Vedete SC Prime UI Setup Andate ad aprirlo Andate ad avviare L'Exe E lui farà Praticamente Tutto in automatico Ovviamente Apritevi Il link Che vi lascio In descrizione E seguirete Passo passo Come andare a fare La configurazione Quei datini Che dovete andare a mettere Dentro la UI Per andare a settare Appunto La vostra cartella Il vostro disco Eccetera eccetera Sono veramente Due cosucce Se poi Volete Avete bisogno Di una guida Passo passo Su come fare Non credo Però se avete bisogno Scrivetemelo Nei commenti Che magari Penserò Di appunto Di fare un video O una live Per andare a vedere Come settare il tutto Detto questo Il video è finito Il vostro polvere Vi saluta E come vi ho già detto All'inizio video Se questi video vi piacciono Se non mi conoscevate Eccetera eccetera Iscrivetevi al canale Campanellina E ci sentiamo Sui vari social Ciao Ciao